Quando parliamo di paperless, ovvero della digitalizzazione dello studio legale, molti colleghi si lamentano di alcune limitazioni del supporto digitale rispetto a quello cartaceo. In particolare, una delle doglianze più comune è quella di non poter prendere appunti a mano o annotare i documenti in digitale. Molti sostendono che prendere appunti a mano, addirittura, permetta di apprendere meglio, di ragionare meglio. C'è poi chi ha ripensato al modo di prendere appunti a mano, come Mike Rood. Se conoscete l'inglese, amate la tipografia come me, vi consiglio di acquistare i suoi due libri The Sketch Note Handbook e The Sketch Note Workbook, dove Mike spiega come realizzare in dettaglio questa tecnica di appunti. Il problema è che prendere appunti a mano mal si concilia con la digitalizzazione di uno studio legale. Infatti, dopo aver preso gli appunti, correrà a acquisire digitalmente i fogli di carta su cui sono stati presi. Inoltre, anche fatto ciò, il testo dei nostri appunti sarà solo un'immagine. Non potremo quindi riutilizzare nei nostri documenti digitali quanto abbiamo scritto a mano. Se volessimo utilizzare quel testo, dovremo ritrascriverlo al computer, con un inutile aumento dei tempi. Recentemente ho scoperto un'applicazione per l'iPad che, combinata con l'Apple Pencil, mi ha permesso di risolvere questo problema e che, spero, potrà risolverlo anche a voi. L'applicazione si chiama GoodNote, come potete vedere dal sito internet. Mentre sto registrando questo video, l'applicazione costa 7,99€ sull'Apple Store, come potete vedere. Una volta pagato il prezzo, non ci sono ulteriori acquisti nell'applicazione da comprare e lo potete usare sia sul vostro iPad che sul vostro iPhone. Segnalo, per chi fosse interessato, che di GoodNote esiste una versione Mac. Non l'ho testata, tuttavia, allo stato permette solo di accedere ai vostri appunti presi su iOS attraverso la sincronizzazione di iCloud e, se volete, importare dei PDF nel vostro Mac per poi annotarli sul vostro dispositivo mobile. Allo stato non è possibile prendere appunti su Mercos, anche se in un articolo di fine 2015 gli sviluppatori segnalano che ci stanno lavorando sopra. Entriamo quindi in GoodNote. Siamo sul mio iPad. Vedete, la struttura è organizzata a taccuini, sostanzialmente. Ne ho creati vari. Per la nostra dimostrazione, entreremo nel taccuino di Avvocati e Mac. Vedete che cliccando sui quattro quadrati possiamo andare a esaminare tutte le varie pagine del nostro taccuino. Come potete vedere, nella posizione in Altro abbiamo opzioni per, selezionando il pennino, le opzioni per scegliere la tipologia di tratto, quindi possiamo scegliere tra diverse grandezze di tratto oppure diversi colori e, ovviamente, nel nostro caso, la penna poi scriverà in maniera differente. Oltre a questo abbiamo la possibilità di utilizzare l'evidenziatore con svariate tipologie di colore. Abbiamo la funzione gomma per cancellare gli eventuali errori. E, come vedremo più nel dettaglio, la funzione lazzo che ci permetterà di utilizzare la funzione particolare che ci interessa per questa guida. Segnalo, da ultimo, adesso proviamo a fare un disegno che, cliccando sulla freccia all'indietro, è possibile tornare indietro, annullare l'operazione. Con la freccia avanti è possibile ripristinare quanto abbiamo già fatto. Cosa interessante di questa applicazione è, per esempio, facciamo una prima scrittura, Avvocati. Ho la possibilità di ingrandire il foglio e, a questo punto, ovviamente, riscrivendo la stessa cosa, vedete come il risultato è decisamente migliore. Interessante dell'applicazione è la funzione di ingrandimento, cliccando l'icona col quadrato e la penna. Come potete vedere, possiamo selezionare, a questo punto si crea un rettangolo blu, che è possibile, peraltro, modificare, di cui è possibile modificare le dimensioni, come vedete, che possiamo posizionare sulla riga in cui vogliamo scrivere e iniziare a scrivere. Come potete vedere, sono riuscito a scrivere di continuo, perché l'applicazione sostanzialmente mi permette di continuare a scrivere andando avanti. Altra cosa interessante, vediamola subito. Come vedete, sono andato a capo automaticamente attraverso l'applicazione. Una volta che abbiamo visto le funzioni di base per utilizzare GoodNote, esaminiamo nel dettaglio le funzioni di cui voglio parlare. Ho già scritto un testo a mano, perdonate la mia calligrafia non perfetta. Come potete vedere, è la semplice scaletta dell'articolo. Cosa dobbiamo quindi fare per convertire il nostro testo scritto a mano in testo digitale? Selezioniamo l'opzione lazzo e con il lazzo andiamo a creare intorno al testo che vogliamo convertire una selezione. Clicchiamo all'interno della selezione, vedete compare il menu contestuale, possiamo fare varie operazioni ma non interessa l'opzione converti. Aspettiamo un attimino mentre il sistema fa riconoscimento del testo e come potete notare, il testo a questo punto è stato convertito in nomali caratteri di testo che sono modificabili, digitabili e quant'altro. A questo punto abbiamo due opzioni, possiamo o copiare direttamente il testo nei nostri appunti, ovvero ad esempio inviare il testo a un'altra applicazione per poi utilizzarlo. Nel mio caso specifico sto salvando il tutto in draft. Come potete notare, il testo che è stato riconosciuto è stato trasferito correttamente in draft. Ora vediamo un'altra funzione che ritengo molto interessante. Come avevo detto, l'applicazione non solo permette di scrivere a mano, ma permette anche di commentare PDF. Questo, nel caso specifico, è l'articolo che mi ha spronato a approfondire l'argomento. Possiamo notare come, appunto, alcune parti del testo siano state create attraverso GoodNote. Selezionare il testo, vedete, di un appunto che ho fatto. E col metodo che vi ho insegnato, convertire il testo in caratteri di testo. Anche qui è possibile, con gli strumenti di evidenziazione, evidenziare il testo che ci interessa. Tutto quello che abbiamo scritto, vedete, selezionandolo, è convertibile in testo da parte di GoodNote. Questo è il primo tentativo di realizzare un video articolo per il mio blog. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se avete suggerimenti su come migliorare o richieste, lasciate un commento qui o dato un'occhiata al mio sito internet, avvocatiamec.it Grazie a tutti.